Allora, prima di salutarci, vorrei invitare Iskra, qui, a un piccolo omaggio da parte dell'Accademia, quindi è un omaggio di benvenuto. Allora, mentre arriva, non sono andato a prenderlo, ci auguriamo che la serata sia stata un vostro gradiente, avete apprezzato. E' straordinario. Mentre arriva Romaggio, Giuseppina, vorrei soltanto dire che dopo ci vuole raggiungerci, andiamo a mangiare una pizza alla fontana, quindi se chi vuole aggregarsi a noi può farlo. Allora, visto che è questo, un piccolo omaggio da parte dell'Accademia di benvenuto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.